Sei arrivato tu ed è arrivato il sole. Sì, è arrivato proprio il sole. Compiuti 18 anni, Manuel esce dall'Istituto per Minori e deve reinserirsi nel mondo. Sua madre, in carcere, potrà ottenere gli arresti domiciliari solo se lui la prenderà in carico. Ci sono film che raccontano una storia, altri che la vivono. È il caso di Manuel, in cui il regista trasforma l'anno e mezzo di riprese in un processo esperienziale anche per il suo protagonista. Sul suo volto e nella sua fisicità trascorrono gli slanci e le paure di un ragazzo che assapora la libertà, ma è anche costretto alla responsabilità. Il passaggio da un'adolescenza protetta all'età adulta è un carico pesante e Manuel non sa se sarà in grado di reggerlo. Albertini riesce a farci sentire sia le sue azioni che i suoi pensieri.